L'adolescenza è da sempre un momento delicato per la crescita, principalmente in un periodo storico come quello attuale. Sempre con maggiore frequenza, la cronaca riporta alla ribalta storie di violenza fra coetane e adolescenti. L'ultimo episodio si è verificato a Caltanissetta, dove i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare che dispone il collocamento in un istituto penitenziario minorile nei confronti di due ragazzi di 15 anni gravemente indiziati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, scaturisce da un'approfondita attività investigativa coordinata dal Procuratore della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, e condotta dalla sezione operativa della locale Compagnia dei Carabinieri, all'esito della quale sono emersi gravi indizi a carico dei due minorenni, i quali lo scorso settembre avrebbero attirato con l'inganno all'interno di un garage di proprietà di uno dei due un ragazzo di 13 anni bloccandolo su una sedia e legandogli caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Nella circostanza il giovane sarebbe stato colpito con schiaffi su tutto il corpo, avrebbe subito sputi sul volto e intimidazioni con attrezzi da lavoro e con un coltello. Inoltre gli sarebbe stato versato addosso acqua entrisa di olio per motori con la minaccia di dargli fuoco. Dopo circa un'ora e mezza il 13enne sarebbe stato liberato con l'ulteriore minaccia di morte qualora avesse rivelato a qualcuno quanto accaduto. Secondo i militari dell'arma il movente di talazione sarebbe dovuto all'intenzione dei due minorenni di vendicarsi dal 13enne che avrebbe condiviso con altre persone il proprio disappunto per alcune aggressioni che gli stessi giovani avrebbero fatto nei confronti di alcuni suoi amici.